Siamo a Limbiate, in provincia di Monza Viglianza, dove abbiamo una struttura di addestramento dei cani guida per ciechi, dove ogni anno si addestrano e si consegnano gratuitamente in tutta Italia 50 cani guida. Siamo a 2150 cani consegnati dall'inizio dell'attività che è l'anno 1959. Da chi siamo sostenuti? Siamo sostenuti dai Lions italiani, dai Leo che sono i giovani Lions e poi dalle persone che ci vogliono bene, aziende che ci seguono e ci aiutano a poter continuare questa nostra opera di grande rilevanza sociale per l'aiuto dei non vedenti. Per tutti quelli che non hanno il sole è l'immensità del mare. È la storia della volontà, una scintilla che si accende. È la musica del cuore che si espande fino a te, grande dono assai prezioso, l'amore generoso. È il mio più profondo, amico che non vedi, tu non sarai più solo, c'è chi ti guiderà, potrà girare il mondo in tutta libertà, con un amico che non ti abbandonerà. Per buona volontà, noi siamo ancora qua, vogliamo regalare, l'amico più fedele. a chi conosce solo, negli attivi del tempo, un essere speciale, un fare in mezzo al male, con un amico che non ti abbandonerà. Per tutti quelli che hanno perso il sole, i colori in primavera. C'è una storia così bella e vera, cominciata tanto tempo fa. Una storia fatta di umiltà, di un amore sconfinato. Un amico in ogni istante che in cambio chiede niente, un amico che non vedi, tu non sarai più solo, c'è chi ti guiderà, potrà girare il mondo in tutta libertà. con un amico che non ti abbandonerà. Per buona volontà, noi siamo ancora qua, vogliamo regalare, l'amico più fedele. a chi conosce solo, negli attivi del tempo, un essere speciale, un fare in mezzo al male, con un amico che non ti abbandonerà. a chi conosce studio, che non ti abbandonerà. A chi non ti abbandonerà. nell'ambico che non ti abbandonerà. Grazie a tutti. Grazie a tutti.